Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate. Mercoledì, 9 febbraio 2022. Dopo la rottura con Nunzio Cammarota, Chiara, vive un momento di forte sconforto emotivo. La ragazza, in aggiunta a ciò, si ritrova costretta ad affrontare una difficile trattativa, per la cessione delle quote, del gruppo Petrone. Roberto, segue attentamente il caso della ragazza. Approfitterà dunque, della sua fragilità, per speculare ed ottenere condizioni, a suo vantaggio? Ferri inoltre, spera che Marina lasci al più presto, Fabrizio Rosato per iniziare, un nuovo capitolo con lui. In ospedale, continuano i momenti di tensione per Rossella, soprattutto quando la dottoressa, si ritrova alle prese, con un caso clinico, molto complesso. Esso, mette a durissima prova, le competenze acquisite dalla donna, nonché il suo autocontrollo. Riccardo, è veramente disperato, e fa di tutto, per convincere Virginia, ad accettare la separazione consensuale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.